Musica Buongiorno, bentrovati, buon sabato mattina per questo appuntamento con l'informazione Occhio ai giornali tutte le mattine qui dal lunedì al sabato per mostrarvi su Fano TV le principali notizie sul resto di Carlino e Corriere Adriatico ma vediamo subito con la prontezza e la grafica del regista Riccardo Sori che cosa ci recita il calendario per oggi e poi anche le previsioni del tempo sabato 23 febbraio è San Policarpo Vescovo il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 17.48 vediamo subito le previsioni del tempo chi è uscito di casa si sarà reso conto dei forti venti che stanno tirando dal settore nord orientale vento teso con raffiche anche fino a burrasca forte o tempesta lungo la fascia costiera lungo la fascia anche nelle zone montane e fino a burrasca nelle zone collinari quindi un vento che come velocità secondo quello che è e la classificazione può andare anche dai 60 agli 80 km all'ora quindi un vento teso il mare come è immaginabile è molto mosso e agitato anche nella seconda parte della giornata il cielo però si presenta irregolare come nuvolosità e quindi anche qui per nubi in ingresso dal mare però negli altri settori è prevalentemente sereno precipitazioni, possibilità di isolate deboli, brevi, nevicate nei settori montani, meridionali però nella prima parte della giornata quindi fiocchi di nevi come vedete anche dalla cartina gelo nei fondovalle quindi attenzione per domenica anche qui cielo sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione, temperature in aumento nei valori massimi però il vento forte che però cala di intensità vedete passa a brezza tesa nelle zone collinari e vento moderato nelle altre zone centro-settentrionari lungo la fascia costiera e nelle zone montane appunto anche qui vento moderato con raffiche nella prima parte della giornata però fino a vento forte sulla costa comunque velocità del vento in diminuzione il mare rimane mosso compare la simbologia delle gelate appunto fenomeni particolari estese gelate notte e tempo e primo mattino quindi attenzione nelle prime ore della giornata di domani stessa cosa per quanto riguarda lunedì gelate nei fondovalle e nelle prime ore della mattinata però vedete sulla regione splende un sole pieno senza nubi e senza precipitazioni queste sono le previsioni del tempo quindi oggi è Dormani una giornata impegnativa sul fronte del vento speriamo che questo vento non crei problemi ai carri di carnevale soprattutto quelli di prima categoria che svettano fino ad un'altezza di 13 metri per la sfilata di domani insomma ci auguriamo che tutto possa essere messo in campo come è da programma allora vediamo le pagine dei giornali vi porto subito in quelle di apertura del resto del Carlino in primo piano la tragedia che si è consumata ieri lungo la Flaminia alle porte di Fossombrone un'auto si ribalta muore una coppia sul colpo uno schianto terribile una frenata di oltre 30 metri le ragioni di questa fuoriuscita di strada ancora da ricercare però in testa di pagina in apertura si parla di un calcio all'arbitro che è stato assolto poi il colpevole fatto tenue così il giocatore evita la condanna ma c'è anche un richiamo su Fano l'addio degli studenti della Gandiglio degli amici e dei colleghi al preside e poi volontari nel verde andiamo a peso all'esercito dei 140 e appunto c'è anche la politica in fondo alla pagina 5 stelle, Tari, aumento in arrivo siamo a Urbino ma c'è lo spettro dei licenziamenti per la Carbon Line lo vediamo poi all'interno mentre il Corriere Adriatico con una fotonotizia diversa da quella del resto del Carlino si parla del destino dell'aeroporto di Falconara aerodorica la sfida decisiva si della UE via libera alla ricapitalizzazione della regione ora manca il verdetto dei creditori un anno e mezzo di ITER secondo passo verso la salvezza l'apertura però è per l'auto che piomba sulla villetta la tragedia sulla Flaminia coppia muore nello schianto le vittime avevano 68 e 39 anni di spalla però la questura la nuova questura non si abbassa l'alert di Forza Italia ma Ricci si arrabbia per una richiesta di ispezione poi va andare in azione sul Conero una delle spiagge più belle della regione le due sorelle e quindi vandali in azione con gli spray andiamo di nuovo nelle pagine del Corriere Adriatico si impennano si parla di smog e di ambiente nelle pagine di Pesaro niente pioggia e vento si impennano i livelli di smog dal 15 febbraio al 5 sono stati gli sforamenti sono stati 5 chiedo scusa 13 in totale da inizio l'anno il comune però dice siamo in linea con il 2018 si parla di un festival per unire Pesaro e Alghero ci sono delle lanterne che si accenderanno in centro oggi alle 18 le luci di Marra si illumineranno il cuore della città e resteranno lì fino a novembre però se guardate insomma il colpo d'occhio è sicuramente molto bello andiamo ancora a vedere la notizia della Questura Forza Italia vuole una ispezione nella nuova sede ma Ricci insomma si infuria remate contro la città dice e quindi il sindaco replica indietro non si torna daremo battaglia però intanto il senatore Cangini chiede a Salvini di intervenire su questo aspetto della città di Pesaro dalla Valle Foglia si parla di differenziata quindi di raccolta di rifiuti è stato un anno d'oro la raccolta ha superato l'80% quindi cittadini virtuosi anche Valle Foglia tra i 13 comuni record imballaggi oltre la soglia europea e qui insomma nell'articolo snocciolati tutti i dati di questa raccolta cambiamo la testata rimaniamo però a Pesaro ma vediamo cosa recita il resto del Carlino contro le mafie un'iniziativa dei ragazzi del liceo Marconi e studenti giornalisti sarà proiettata il loro video al San Giovanni e vedete qui i bravissimi docenti e anche preside e tutti gli studenti con il vessillo di Libera rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino che si parla anche della vicenda insomma il proseguo della vicenda gli altri aspetti della netturbina volontaria di origine giapponese Natsuko ora cerca proseliti visto il successo che ha ottenuto dice ripuliamo anche il parco Miralfiore parla giapponese in questa intervista al resto del Carlino premiata dal comune spero che mi aiutino questo altissimo senso civico e vedete qui il sindaco Matteo Ricci con il riconoscimento e l'omaggio che gli è stato fatto proprio a lei per il gesto che ha fatto cambiamo testata andiamo Corriere Adriatico apriamo le pagine di Fano torna il decentramento e quindi la vita politica dei quartieri si rianima pronto il regolamento il regolamento per i consigli di quartiere sei sono nel territorio con nove membri sei eletti e tre nominati e quindi la settimana prossima nel consiglio comunale verrà votato dal consiglio comunale il regolamento messo a punto dalla giunta le scelte del comune tra rappresentanti dell'associazione anche e quindi vedremo la rappresentatività sociale nella pagina della politica per mercoledì il voto e poi anche qui nel giornale ci sono le foto che documentano l'addio e la profonda commozione per il preside Salucci una folla che vedete nelle foto veramente importante e sul sagrato il concerto dei ragazzi della Gandiglio scuola media Gandiglio che è a indirizzo musicale e quindi hanno voluto omaggiare il loro ex preside per tutto quello che ha fatto per loro ma nel Corriere Adriatico si parla anche di ambito sociale rilanciate le critiche da Marta Ruggeri che replica a seri dice un accanimento contro Battisti ma non la verità sei anni di gestione punto oscuro nessuno lasciata sola dice Marta Ruggeri nessuno ha verificato che cosa accade dal 2008 al 2014 nuovo stadio rimaniamo su Fano si parla di nuovo stadio ora Gabellini il patron del Fano ci sta pensando c'è una bozza di progetto contatti con seri sarebbe previsto a Chiaruce 10.000 posti con campi satelliti anche un'area commerciale forse un hotel intanto però come vedete nella foto proseguono i lavori per l'installazione a presto della nuova copertura della tribuna anche qui però nella pagina della Valmetauro l'articolo che riguarda il SUV piombato su una casa una recinzione due morti uno schianto terribile contro il muretto e poi contro la cancellata alla periferia di Fossombrone un palo abbattuto e la recinzione però la dinamica è ancora da chiarire guardate come era posizionata l'auto e questa foto è proprio chiara vedete momenti anche di cui è stato richiesto l'intervento di diverse forze dell'ordine polizia carabinieri anche per regolamentare il traffico in quel momento erano le 15 di pomeriggio appunto anche il corriere adriatico fa il punto su questo incidente scontro contro una casa schianto dove perdono la vita due persone ieri pomeriggio deceduto una coppia di 67 e 38 anni sballottati nell'abitacolo sembrerebbe dalle prime risultanze che ambe due non avessero la cintura di sicurezza allacciata vedete l'auto si è proprio incuneata nella discesa del garage di questa casa che proprio è lungo la Flaminia veramente 30 metri di frenata e bisogna capire il perché spettro dei licenziamenti alla Carbon Line purtroppo in vista per 35 operai è stata avviata la procedura e insomma c'è preoccupazioni fuori dal cantiere di Bellocchi la letteraria presenta la sua nuova rassegna in una crescita esponenziale da quando è stata avviata questa manifestazione che la prima scrematura di testi avverrà il 24 marzo la finale invece ad ottobre saranno 971 gli studenti coinvolti a scegliere i finalisti tra 73 romanzi in gara e anche qui insomma l'ultimo saluto ad Atos vedete un momento dell'ingresso del feretro nella cattedrale l'ultimo saluto ad Atos sulle note dei suoi studenti l'orchestra Gandilio ha suonato per il preside presenti anche tanti ex studenti del preside per stringersi attorno a lui e alla sua famiglia in questo triste momento dalla Valcesano cominciati i lavori dell'ospedale siamo a Pergola il sindaco sentenzia questa è l'inizio della fine grido d'allarme si vuole convertire la struttura e quindi Francesco Baldelli il sindaco di Pergola scrive una lettera alla regione da Urbino vediamo che cosa presentano i due giornali Corriere Adriatico si parla di sanità ma anche di politica uniti per Urbino candida il dottor Saverio Guerra che dice l'ospedale era un'eccellenza servono professionalità nascite annuali sotto quota 600 a rischio ginecologia e ostetricia di tono diverso invece l'articolo sul resto del Carlino la pagina di Urbino si parla di tasse e di contributi Tari in aumento appunto un aumento in arrivo ne parla la consigliera Emilia Forti dei 5 Stelle che va all'attacco del sindaco che dice Gambini vuole in questo modo compensare il deficit ultima pagina che vi propongo andiamo nella vicina Senigallia dove si parla di multe di locali chiusi per mancate licenze ballo tra i tavolini allo Sugar Suite non c'è la licenza scattano i sigilli non è una discoteca siamo però nel giusto chiariremo tutto al più presto così dice il direttore Majorin il locale però intanto è stato sequestrato vedete qui i sigilli al locale viene contestato l'esercizio abusivo dell'attività di pubblico spettacolo questa era l'ultima pagina proveniente da Senigallia che vi proponevo per questa rassegna stampa l'ultima rassegna stampa della settimana del sabato questa sera vi ricordo che non c'è occhio alla notizia ma c'è il nostro magazine 7 per occhio dove riassumiamo un po' le principali notizie della settimana salvo che non ci sia qualche notizia di cronaca dell'ultimo minuto avete visto comparire il nostro numero di telefono che ormai dovreste conoscere per entrare in contatto con noi e con la nostra redazione grazie per essere stati in nostra compagnia e occhio ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7 e 30 buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti